Tiziano Tiziano Tiziano, in qualche modo, è il pittore del colore. Tiziano rappresenta il genio italiano del Rinascimento. Almeno due secoli di pittura europea sono impensabili senza l'esempio di Tiziano. Un pittor che allumbra un cammino nuovo. Una esplosione. Uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Ha indicato la via della vita. Questo è il momento del triunfo. Non vi è dubbio che fosse un giovane genio. È il pittore dell'invenzione. Non ha paura dei poteri forti. Di imperatori ce ne sono tanti. Di Tiziano ce n'è uno solo. Che potesse insegnare a un'esprete? Che potesse insegnare a un'esprete? Ma cosa potesse insegnare a un'esprete? Un'esprete è di aperta uno's self up e di sentire. Grazie a tutti.